Shadow, perché ti sei unito al nemico? Questo non va bene! È perché, Sonic Q, provo grande odio per te! Shadow-kun, l'amicizia è la nostra forza! Perché combattere? Dobbiamo sconfiggere Infinite-chan! Cosa c'è che non va? Tu, perché non mi hai invitato al tuo compleanno? Ma l'ho fatto! Ho mandato tutti gli inviti per posta! Non ho un indirizzo per ricevere la posta, Bakaero! Tu non mi consideri un tuo nakama! La nostra amicizia è finita! Impossibile! Mi segui ancora su Twitter! Ahaha! Ora non più! Baka no! Non ti perdonerò, Sonic Usama! Ecco perché ti sfido ad una lotta all'ultimo sangue! Hai voluto sfidarmi ed io non posso rifiutarmi di combattere! Non importa cosa accadrà, io non mi arrenderò mai! Aaaaaaah! 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 Non di nuovo! Oh! Aaaaaah! 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 Aaaaaah!